Il panico da coronavirus sta ormai contagiando tutti in ogni angolo del globo, con una serie di allarmi che il più delle volte, per fortuna, si rivelano infondate esagerazioni, sebbene sia necessario tenere alta la guardia e non sottovalutare i rischi connessi. E' il caso dell'allarme, ora rientrato, scattato a Vibo Valencia per un caso sospetto che si è poi dimostrato non legato al coronavirus. Tutto è successo quando un giovane musicista di Vibo Valencia di ritorno alcuni giorni fa dalla Cina, dove si era recato per un concerto, ha avuto la febbre ed è stato ricoverato come soggetto a rischio nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Iazzolino di Vibo Valencia. Dopo cinque giorni in isolamento, alla fine degli accertamenti è emerso che si sarebbe trattato di una semplice influenza. Dimesso dall'ospedale senza alcun problema, il musicista ha pubblicato sui propri social il foglio di dimissioni del reparto, sul quale viene specificato che il suo caso non rientra nei contagiati del coronavirus. Anche dall'azienda sanitaria di Vibo Valencia la rassicurazione è che non vi sono altri casi sospetti.